Cosenza entra ufficialmente nella magia dell'avvento con l'inaugurazione dei mercatini di Natale. Sono oltre 50 le casette in legno addobbate a festa da luminari e festoni in piazza Bilotti, dove poter curiosare in cerca di oggetti artigianali e trovare tante idee per regali originali. Un evento promosso come tradizione dal comune di Cosenza in collaborazione con la storica associazione dei commercianti, degli ambulanti dei mercatini di Natale e con il coinvolgimento per l'area food di tutti i locali di piazza Bilotti. Stasera inauguriamo questi mercatini che sono all'insegna della nostra tradizione. La novità di quest'anno è un artigiano particolare che lavora in legno, lavora i bellissimi alberi fatti in legno e quindi diamo valore al nostro artigianato. I locali quest'anno saranno parte principale anche della nostra enogastronomia tradizionale natalizia, e il sindaco ha voluto questo progetto lasciando la parte della piazza libera con le sedute e l'albero proprio per rendere la nostra piazza più importante e un luogo di aggregazione. L'atmosfera festosa fatta di luci, colori, profumi, suoni accoglie i visitatori e proietta Cosenza tra le città italiane ed europee dove vivere con gioia la magia del Natale. È Natale, buona Cosenza a tutti e questo il claim scelto dall'amministrazione comunale per quest'anno a testimonianza della notevole crescita dell'attrattività di Cosenza che si impone come modello da seguire grazie anche al continuo fiorire di nuove attività commerciali. Cosenza diventa sempre più attrattiva, questi sono stati anni in cui abbiamo lavorato molto intensamente, è una città che ha puntato molto sulla vivibilità. L'invito è quello di stare qui in spensieratezza, vivere e godersi la città nel migliore dei modi possibili con tutti gli eventi che ci saranno durante il mese di dicembre fino al 6 gennaio e l'occasione per farsi una passeggiata come si fa in tutte le città belle europee e stare insieme alle persone che si amano, come sia un rapporto familiare, un rapporto di amicizia. Quindi buone vacanze di Natale a tutti nella straordinaria e meravigliosa città di Cosenza.